Monsignor José María Escrivá Monsignor José María Escrivá la promozione di questa istituzione della Chiesa e diffonde la ricerca della santità in tutti gli ambienti attraverso il lavoro professionale e le ordinarie circostanze della vita. Nel 1946 stabilì la residenza a Roma. Tra il 1947 e il 1950 l'Opus Dei ricevette le approvazioni della Santa Sede. Il fondatore ne stimolò l'espansione in tutto il mondo, svolgendo un'intensa attività di catechesi e incontrando migliaia di persone. Fu prelato d'onore di sua santità, consultore di varie commissioni pontifice e gran cancelliere delle università di Navarra in Spagna e di Piura in Perù. Ha scritto numerosi libri che nell'insieme hanno superato i 6 milioni di esemplari. La sua opera più nota, Cammino, è stata tradotta in 39 lingue ed è considerata un classico della spiritualità cristiana. Monsignor Escrivá, dopo un'intensa vita di dedizione alla Chiesa e alle anime, si spense santamente a Roma il 26 giugno 1975. Dopo la sua morte, un numero crescente di persone ha corso a pregare nella cripta della Chiesa Prellatizia di Santa Maria della Pace, dove riposano i suoi resti. San José María Escrivá, un santo dei nostri tempi, è stato canonizzato da Giovanni Paolo II il 6 ottobre 2002 in Piazza San Pietro, davanti a una folla di circa 400.000 persone di tutte le età e livelli sociali, giunte da tutto il mondo. Egli non è noto soltanto per aver fondato l'Opus Dei, che oggi è una prelatura personale della Chiesa Cattolica e di cui fanno parte 85.000 persone, di cui 1.800 sacerdoti, ma anche per la diffusione del suo messaggio spirituale, volto a incoraggiare tutti i cristiani a cercare la santità nella vita quotidiana, soprattutto attraverso la santificazione del proprio lavoro professionale e nell'adempimento dei propri doveri. Il cielo e la terra, figli miei, sembra che si uniscano laggiù, sulla linea dell'orizzonte, e invece no, è nei vostri cuori che si fondono davvero, quando vivete santamente la vita ordinaria. Grazie a tutti.